Calvano tentativo di fare una zoa pazza, che puttana di me mare di Ocane, che a volte mi ha fatto un trichetto piuttosto, dio porco, bicicletta di Ocane, paestra, corsa, dio porco, e non cado mai di peso che è brutta sciacalla di che è Turbo Troia della Madonna, puttana tra l'altro, dio can. Sì, sì, sono arrivato a casa, sono andato in paestra, ovviamente ho fatto un'ora di paestra e basta, perché sono arrivato l'altra, che era già tardi, e oltretutto fa paestra, vado a comprare qualcosa da mangiare, perché avevo anche fame, dio troio, e perdi tempo anche da lì, e dopo va a casa in bicicletta, lavate ancora, perché è 600 gradi per CP, 700, riparti in bicicletta, va a lavorare, sono arrivato a lavorare che è 9 diese, a niente va, so 85 kg, ma se non facesse tutte le cose che faccio, mi dico che sarebbe un quintale diese, dio cancaro, assorbo tutto quello camagno dio can, acqua compresa, sudo un litro di acqua, gli bevo mezzo, la recupero d'occhi dio can, che è il brutto maledetto di Cristo infame, vabbè, a parte quello dio can, sta una settimana, non fia pesante, un po', un po', gli mi ha mandato su un altro posto, anzi due posti, con cui dovessi avere a che fare, con un rumeno faccia da merda, testa da cazzo, dio can, che aveva sparato in faccia 18 volte, dio can, capito? E quindi, a ieri arrivato là nervoso, mi ha fatto innervosire anche lui, dio can, e manca un anno al secondo perché mi andassi in figa il suo mare, e se permetti, se ti conosci niente, se ti permetti anche di fare battute, spingi, spingi, mi ha detto, come se fosse la tua ragazza, ha detto, ascolta, pensa a tua ragazza che è mia, a che penso mio, ora è il gattagesto, ma guarda strano è il gattagesto, non ti conosci niente, non ti sai niente cosa che ha pensato, sono ti dio can, e sono qui che sono meglio vagamente a ti, e ti ti permetti di scherzare, dio sporco, che in un'altra situazione ti chiederei a sotterà, ti sotteravo stasera, vennevo a spararti in faccia domani, dio porco, dopo ti arrivi, dio can, due chilometri e mezzo di corona, dio slandron, che che vuoi, cinque minuti, dio stracancaro fare che ha strada lì, ha commesso quarantacinque minuti, che ho bussoletta troia della madonna, se ti muovi in un ambiente, ti sei costretto, dio can, a incattivirti, dio super bestia, ma anche ora e mezza, dove che faccio il pomeriggio, dio can, a parto frate, dio can, arrivo a casa, che ho attila, dio can, puttana madonna, capita che uno si ferma a domandarmi un'informazione, niente niente, che ti stacca i brazi, dio can, anche butto il brazzo davanti, va verso il brazzo, dio porco, l'è lato che ti cade andare, e fortuna che faccio un'ora e mezza, dove il pomeriggio, perché se no, a Saria Zanga era, se il mio lavoro fosse solo del pomeriggio, o diurno, dio can, non avrò mai abbastanza 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 a ponte della lingua, dio bisonte, a parte questo è tutto bene comunque, dai, qua.